Riapre domenica il Museo Cascella davvero rinnovato. Chi conosceva questo spazio rimarrà molto colpito, come lo sono rimasto io, dal nuovo museo che ha visto una risanificazione degli ambienti, dai pavimenti alle mura che sono state messe a posto dipinte. Ma soprattutto c'è un evidente, chiaro, nuovo criterio espositivo che vale a accompagnare in un viaggio che dura cent'anni, quello compiuto dalla famiglia Cascella, attraverso varie forme espressive, artistiche. Dalla ceramica, qui c'è una nuova sezione dedicata davvero molto bella, e poi alla pittura. La pittura che qui, in questa bella sala, con questo bellissimo dipinto alle mie spalle, insomma, trova la più grande consagrazione. E poi ci sono, naturalmente, anche le sculture. E poi c'è uno spazio di batte, di conferenze, eventi, dove abbiamo tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione, che vogliamo essere fruito e reso vivo da quanti, frequentando questo museo, certamente alimenteranno l'ambizione artistica di una città che sale nelle classifiche nazionali di gradimento, nello specifico, nel settore culturale. È a venire qui, appunto, da domenica per verificare che le parole che sto dicendo corrispondano ai fatti. E dunque è una giornata bella, perché io credo che l'arte, insomma, la cultura devono essere cose visibili, percepibili, toccabili con mano e con la persona. E camminando in questi spazi ti accorgi che, insomma, in questa bottega è transitato veramente molto pensiero artistico degli ultimi cento anni.